Buonasera a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di FC internazionale in vista della gara di domani contro il Bayer Leverkusen. Possiamo cominciare con le domande per il nostro allenatore Antonio Conte e per il nostro capitano Samir Andanovic. Cominciamo con una domanda di Gazzetta dello Sport. Eccoci. Ciao, buonasera a tutti. Una domanda prima per il mister. L'altro giorno prima del get-up... Scusa, falle insieme per piacere. Sì, sì, sì. Ok, perfetto. Diceva che bisogna essere pronti a sporcare la partita. Il Bayer invece è una squadra che sulla carta ha morto più talento, molta più qualità, quindi cosa cambia per voi? Per invece Samir, anche là mi ricollego a quello che ho detto sempre l'altro giorno, che la squadra ha più cazzimma rispetto forse ai mesi scorsi e che cosa gli è piaciuto di più della squadra nella partita con il Getafe? Dopo che i primi 20-25 minuti difficili poi siete venuti fuori. Quindi cosa ti è piaciuto di più della squadra? È inevitabile che ogni squadra ha le proprie caratteristiche. Quando abbiamo parlato del Getafe, la caratteristica principe di questa squadra è che è una squadra molto temperamentale, molto combattiva e quindi sotto quel punto di vista dovevamo essere bravi ad usare le stesse armi e quindi siamo stati bravi perché siamo riusciti a rispondere colpo su colpo e a scendere anche in un terreno dove loro hanno sempre fatto le loro fortune. Per quello che riguarda la partita di domani, sia una squadra che hanno diversi talenti, sono giocatori molto veloci, bisogna fare grande attenzione a non prendere delle ripartenze, dei contropiedi perché loro sono letali da questo punto di vista e al tempo stesso noi dobbiamo fare la nostra partita cercando di sfruttare le nostre caratteristiche, cercando di fare in fase di possesso quello che sappiamo, quello che abbiamo preparato per cercare di metterli in difficoltà. Mi è piaciuto soprattutto contro Getafe che non abbiamo preso gol, quella è cosa fondamentale e quando non si prende gol è già un buon punto di partenza. Poi anche la squadra è stata sempre compatta e anche quando, come hai detto te, i primi 20-25 minuti loro sono venuti a pressare un po', erano anche più freschi un po' di noi, l'abbiamo tenuto bene, quindi quella è cosa che mi è piaciuta di più. Guido De Carolis, Corriere della Sera Eccoci, partivo dal mister e poi una domanda da Andanovic. Volevo chiederti, i tedeschi prima sentivo la conferenza stampa dell'allenatore, molte domande sono state su Lukaku, lo temono parecchio. Il centravanti belga quest'anno ha vissuto la sua miglior stagione in carriera perché ha segnato come mai prima. Tu l'hai fatto di tutto, come tu stesso hai raccontato, per portarlo all'Inter. Quanta soddisfazione dà vedere confermato un tuo obiettivo di mercato, cioè che cosa vuol dire per te e per l'Inter, questa esplosione, insomma questa bellissima stagione di Lukaku. Ad Andanovic invece volevo chiedere, prima appunto dicevi che mi è piaciuto il fatto che non abbiamo preso gol, ecco l'Inter ultimamente sta confermando che in difesa ha trovato un grande equilibrio, 5 gare senza, le ultime 5 senza subire reti. Cosa è cambiato nel reparto difensivo? Io penso che se la squadra fa bene, Romelu, Lautaro o Sanchez, quando è stato a disposizione esposito, hanno sempre fatto bene. Penso che i singoli giocatori, la bravura del singolo giocatore dipende sempre dal contesto della squadra, dalla qualità della squadra, dal supporto che gli dà la squadra al giocatore. Quindi io penso che Romelu, se vende una grande stagione, è merito della squadra che lo sta supportando, così come la grande stagione la sta vivendo Lautaro, non lo dimentichiamo. È sempre stato al centro di voci di mercato, però devono essere fatti complimenti a loro, ma ripeto, i complimenti a loro sono sempre subordinati a quello che la squadra permette poi loro di fare. È contento che Romelu si sia inserito bene nell'Inter, è un ragazzo a posto, un bravo ragazzo, sicuramente questo ambientamento è stato anche favorito dal fatto di trovare dei ragazzi nella rosa, bravi ragazzi, diciamo che si è formata anche una bellissima alchimia tra di loro. Mi ripeto ancora la domanda, per favore, perché... Aspetta che vi devo ridare la parola. Hai apprezzato contro il Viettafe che non avete preso gol. Sono un po' di partite, cinque che non incassate reti. Volevo sapere cos'è cambiato a livello di equilibrio, di mentalità o di che cosa nel reparto, al retratto dell'Inter o all'interno di tutta la squadra. È cambiato che ogni partita che tu non subisci gol aumenta autostima e confidenza. Più vai avanti, più ti carichi e più ti senti forte. È cambiata soprattutto compattezza di squadra, sei trovato un po' assetto e poi è sempre quando non subisci gol da tanto deve essere anche un momento che ti accompagna, perché magari negli altri casi facevamo bene lo stesso, però al primo tiro di avversario prendevamo gol. Quindi questo nel calcio sono anche i momenti che contano. Se ci sono le ultime domande possiamo farle adesso, se no chiudiamo la conferenza. Sì, ancora Gazzardello Sport. Un'altra volevo fare al mister. Ha detto che i giocatori adesso non vogliono andare in vacanza, vogliono andare in vacanza più avanti possibile. Quanto sentite dentro lo spogliatoio che è possibile arrivare sino in fondo? Quanta forza c'è dentro di voi da questo punto di vista? Sicuramente bisogna essere positivi, anche perché noi lavoriamo duramente ogni giorno per cercare di avere l'obiettivo che deve essere sempre un obiettivo massimo. Da lì poi ad arrivare fino in fondo chiaramente ne passa e dovremmo dimostrarlo sul campo di meritarlo. Come ho detto, ripeto, contro il Getafe, noi non dovremmo avere recriminazioni, nel senso che dovremmo dare tutto. Se il tutto basterà per arrivare in semifinale, non so, in finale o eventualmente alzare la coppa, saremmo tutti contenti. Altrimenti ci fermeremo dove è giusto che bisogna fermarsi, ma senza avere recriminazioni. Non ci sono altre domande, quindi vi ringrazio. Vi saluto, l'ultimissima del Corriere della Sera. Senti, per il mister, ieri Gattuso dopo la partita col Barcellona, scherzando, parlando appunto del nuovo allenatore della Juve, ha detto che adesso sono cavoli suoi. Tu l'hai avuto come giocatore, Pirlo. Volevo chiederti se anche qui è una soddisfazione vedere che magari lo hai segnato da tecnico, anche come giocatore, e vedere che un tuo ex si avvia su una panchina importante. Sicuramente sono molto contento per Andrea, perché oltre a quello che mi ha dato a livello calcistico, lo conoscete tutti, stiamo parlando di una persona eccezionale, a quale sono logheato da grandissimo affetto. Per il resto, quello che mi fa pensare è che a giocatori che prima allenavo, adesso sono allenatori, significa che sto diventando vecchio. Grazie e buonasera a tutti. Grazie mille. Grazie e buonasera. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.